Ciao! Tutto sembra andare per il verso giusto. Ora si torna a casa. Ci stiamo svegliando. Aurora, possiamo andare a casa? Festeggia. Le istruzioni sono dall'altra parte. Ma io non capisco niente. Pazza. Un primo viaggio in macchina. Da qui non so se è la luce, è la telecamera o cosa, ma se vedete proprio che il naso è specificato quello di Italia. Sono io, nonna. Aspetta, aspetta, stai lì che guardo sciocco. Ciao! Ciao! Ciao, nonna. Sei contenta, nonna? Sono contenta. Grazie. Grazie. Tentela. Grazie. Perché sembrava che volesse strillare. Ha le mani un po' viola? No. Ciao, papino. Ciao. Ciao, nonna. Ciao, papi. Ciao, papi. Ciao. Ciao. Ciao, papi. Ciao, papi. Non so come spiegare una cosa, che tanto sono convinta io, come sono convinta che torniamo insieme, sono convinta che lui qualcosa lo provi. Ora non so se lui si rende conto che prova qualcosa, non so se lui anche cerca di nasconderlo, non so, boh, non lo so. Però secondo me qualcosa c'è. Mi ha fatto le carezze da anni, ma perché lo guardava tutto per dire… Sì, certo, ha fatto le carezze che è leader. Sì, perché gli ha preso la mano e gli ha fatto così. L'ha graffiato. Gemma è felice, Aurora è tra le sue braccia e Daniele vuole fare il papà. A pochi giorni dal parto, la vita di Gemma sembra essere cambiata in meglio. Molto bene. Guardando la pagina Facebook di Daniele, Gemma ha scoperto che lui sta con un'altra. La speranza di questi due giorni è bruciata in un attimo. che ho insegnato. Andiamo a dare» Que di però a darei rimbero. just situação che si intendo. Grazie a tutti.